Mi ha risposto la Vika? Ci siamo Alex Mi sposti la Vika in In canale privato live streaming? Sei mai stato a Gravina in Puglia? Sta arrivando la Vika qua in live Con noi per dieci minuti Prima di leggere Jujutsu Kaisen Figchioli Ma vi rendete conto? Salvo numero La Vika Hai le palpitazioni vero Asoprochi? Ti capisco benissimo Ok fatto E adesso ragazzi non ci resta che aspettare Stai parlando con la chat Sì? Sei sicuro che deve passare di qui A meno che non ci spezzi il cuore Cosa che comunque non sarebbe una brutta notizia Rick, grazie per il decimo mese Bentornato Non urlate la Vika Non spaventate la Vika Sta arrivando? Bro? 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 Bro, la Vika ospite la Vika un minuto Cosa? Cosa per te Vi avvieni quando buono Ok adesso si... pronto? Eccoci Mi senti? Pronto? Ehi Ciao, ciao Ludovica Sono Mario Sturniolo Hai laggato Però Sono d'accordo con te Sono Mario Sturniolo Eh sì, sì Ho visto Era quello che ti avevo detto quando l'avevo laggato Ah ok Perfetto, perfetto Sono contento che tu ti trovi bene da queste parti Senti Ludo Potresti accendere per favore la videocamera? Non sia per comando eh No, no, no Aspettami un secondo Ah, pensavo che fosse un no Nel senso che non No, no Cetriolo Portati bene Date 24.000 minuti a Cetriolo Rick Per favore Un saluto E un benvenuto Da queste parti A La Vika Ciao Ludovica Ciao Io voglio sistemare le cose qua perché non sono in grado Tranquilla Facciamo così In qualche modo lo sarai sicuramente Che Che ci trovo Che bellino Allora Il gattino Ah, il mio gatto Sì Lo faccio così anche se è orribile sta scena Sì È un gatto Un gatto senza il pelo Sì Sente freddo È bollente in questo momento Ah, ho capito Ho capito Senti Ludo Volevo prima di tutto chiederti una cosa Dimmi Ma ci sono stati dei momenti in cui non mi rispondevi ai messaggi Che era legato al fatto che No Che mi volessi realmente gostare Oppure è sempre stato un cazzo Nemmeno una volta Ma io ti ho detto Ti ho detto in live Dimmi se sbaglio Chiedi a Sdrumox il numero Te lo darai Mi scriverai Perché è impossibile che ti legga su Ma io ti ho risposto su Instagram Poi in quel momento non mi avevi risposto E poi non è più risposto di nuovo E allora non ho risposto niente E infatti guarda Ti prego di non specificarlo Perché Da me in chat Mi hanno veramente massacrato Del fatto che non ho subito preso il tuo numero Non appena ho potuto Ecco Ha fatto bene Eh sì Eh sì Vabbè sì Comunque un sacco di messaggi amorosi nei tuoi confronti da queste parti Ti vogliono tutti bene Ed è proprio per questo Che volevo normalizzare un momento A livello di No Ok vai Un momento quando si vuole Di dieci minuti con la vica Cioè soltanto dieci Ogni tanto dici Ok Dieci minuti Giusto per aggiornarci un pochino Sulla vica Oltre che sulla vita Ti volevo prima di tutto chiedere un favore Un permesso Spero che la risposta sia sì Perché ho già cominciato a farlo milioni di volte Oddio Ogni volta Tutto bene? No Voglio capire cosa hai iniziato a fare Ah ok E no Ogni volta che parlo di qualcosa Dove dico la vica La vita Dico O la vica se preferite Ogni volta che dico la vita Ok Va bene Utilizzo sempre questo gioco di parole Dove oltre la vita Parlo anche della vica E quindi dici Non è abbastanza argomenti E devi Chiedermi qualcosa Per parlarne Meglio No 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 Il fatto che tu sia qui ospite Non è per una carenza di argomenti Ma per la volontà che l'argomento sia soltanto uno Ovvero Come andiamo Come va la tua vita C'è qualcun altro che ti ha dato fastidio Tipo che hai ricevuto dei commenti oggi che ti hanno dato fastidio Oppure non ti sei ricordato il nome di qualche altro autore O cose del genere Nel senso Ogni tanto me lo chiedono ancora i nomi degli autori Devo dire la verità Ma la cosa ti dà fastidio? Nel senso gli dobbiamo corcare Massacrare di botte? Oppure Ormai Ormai Oda lo so Sono sempre lì su Oda Quindi Sei sempre su Oda Vogliamo fare Vogliamo fare un quiz su altri creatori di cose No Ok Ok Ma se posso dirti la verità Nella vita O nella vita Se preferisci Non serve Conoscere i nomi degli autori Quindi anche se non sei gli autori Va Sti c***i C'è Mi sembrava abbastanza importante per le persone Magari No ma per gli sfigati di merda Ludo Non per le persone normali Beh dai Ma sì Ma saranno tipo fan di Evangelion Quella Quella Ma anche fan di One Piece Sono tossici Cioè Hai preso proprio Ma sì One Piece Berserk Ma sono cantiti Sono tutti tossici Sì Sono degli altri di stupidi idioti E basta Che non hanno minimamente idea Di come si tratti una persona Quindi Ludovica Di che c***o parliamo Vabbè dai Ma non tutti Sono così No 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 Io sono un grande fan di One Piece Però non ti direi mai Ti spacco la testa Che non sai l'autore di One Piece Nessuno mi ha mai detto Che mi spaccava la testa Allora ho capito male Perché io ero sicuro Che qualcuno Ti ha detto Ti spacco la testa No 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 Nessuno mi ha detto Nessuno mi ha detto Che ti spacca la testa No Per fortuna no Ok Senti Ma quel gatto Quando si contrae Fa vedere i suoi muscolazzi È una cosa che lo rende meno gatto Secondo te O più gatto Più gatto Anche se so che c'è il meme del gatto Che era stramuscoloso Era stramuscoloso Era stramuscoloso Non so se è presente Quale Guarda Ludo No Ma farò finta di sì Perché non voglio assolutamente Sfigurare È un video di uno Sphinx Che tipo Non lo so Ha le braccia su E si sta leccando i muschi Ma è tipo un ciaddone Eh sì È Lord Beerus Sì La mia è Lady Beerus Ah è una femmina Come hai detto che si chiama? Thalia 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 basta Thalia che vorrebbe dire Guarda in palermitano Non so se lo sai Non è colpa mia No Non lo sapevo Poi me l'han detto Lungi da me l'idea di Incompare Incolparti Di trovare un nome Che significasse Guarda in palermitano Eh attenzione No no Me l'han detto Però è un campione Di League of Legends Thalia Ah pure un campione Di League of Legends Perché a te piace League of Legends Sì Allora visto che ti piace Così tanto Vuoi dirmi il creatore Di League of Legends Per favore No è una battuta Ludo Ludo Se non sentirti È assolutamente Un esame Anche perché A questo giro Sarebbe stato molto difficile Perché non è proprio Una cosa emancipata No me lo sono visto Il semidocumentario Ah Creatori eh Quindi in ogni caso Sei inattaccabile In caso in cui ci fossero Qualche fan di League of Legends Però noi sappiamo benissimo Che sei fan di fumetti Ma penso che nessuno sappia Ma no Difficil Dico un fan di fumetti Si inca**a Se non sai il nome Dell'autore Mentre i fan di League of Legends Si inca**ano Se tipo Vai a FK No Vabbè Come tutti i giochi Dai ci sta Eh sì Infatti ci sta Bellissimo Ehm E Trovi delle connotazioni Delle cose simili Tra Brawl Stars E League of Legends Perché di solito A chi piace League of Legends Di solito piace anche Brawl Stars Perché secondo te? Non lo so Non la sapevo questa cosa Che a chi piace LOL Piace anche Brawl Stars È ufficiale comunque È ufficiale È davvero? Sì certo Non lo so È completamente diverso Ma Eh Però ci sono dei personaggi Che escono Che dicono che sono simili Eh Però Eh Non è Non è Non è un caso Eh Non è un caso dici Eh Non lo so Non lo so Io non è stato perché ci giocavano tutti Eh Ma perché tutti ci giocano Tutti chi I tuoi amici Però È giocano League of Legends Qui casca L'asino Ma soltanto se ti piacciono gli asini Altrimenti non cascherebbe mai l'asino In questo caso Non lo farei cascare E Ti volevo dire Ah sì Che come League of Legends Brawl Stars Tu vai a giocare Dentro Salute Dentro un gioco Dove se Performano male i tuoi compagni Tu non puoi vincere la partita da sola No Perché sei una Contro altri tre Vabbè Se stavolta ce la fai All'inizio Poi Poi diventa un po' difficile Come LOL Dici giustamente Sì Come LOL Esatto È Ti forte Senti Ludo Il primo dei tre momenti Dei dieci minuti Con la vica È terminato Passiamo al secondo Che sono le domande Da casa Adesso Selezionerò delle domande Appropriate Per te Dai ragazzi in chat Appropriate Ovviamente le domande inappropriate Saranno freddate Con grande violenza Da parte nostra Contro questi Comici Di quarto grado Non per citare ovviamente L'iconica trasmissione Mario non sa giocare a LOL Io faccio un casino Io sono un main Garen Come si deve No Garen Che schifo Ovviamente era uno scherzo Giocalo in arena Che bello forte No Io infatti Comunque Main di League of Legends Ludo Zyra Mid Zyra mid Un'assassina Giusto No No Ma nel senso che Chi lo usa La usa come un'assassina Perché fa un sacco di kills No Neanche Non fa tante kills Brava Brava Era un esame Per capire Se Lo sapevo Lo sapevo Che volevo Insegarmi Prossima Prossima domanda Per la Vika Come si produce Il gas nervino Che ne so Non lo so Fan del gas nervino Distruggete la Vika Su TikTok Con dei commenti Fuori di testa Per favore Adesso Passiamo all'ultima domanda Ma di questa invece la Selezionerò accuratamente Aspetta un attimo Ragazzi No Non questo tipo di domande Delle domande Molto più carine Ok Domanda Cosa ne pensi Della Sicilia E dei Siculi In genere Non ci sono ancora state In Sicilia E non conosco Molto siciliani Ok Conosco pochi Simpatici Dai Quelli che conosco Sono simpatici Ok Catanzaro Cosenza Catanzaro Catanzaro Bravissima Bravissima Sempre Sempre Cosenza Merda Wow Mamma mia Lo sapevo Lo sapevo Che era la sposta giusta Adesso Ludo Ti chiedo soltanto Un attimo Perché è finito Anche il secondo Dei tre momenti Il terzo momento È un momento Un po' bonus Che è Farti salutare Da il nostro amico comune Daniele Sdrumox Che so che hai Conosciuto meglio Visto Il Il discord Comune Certe volte vai a giocare Dal socio Su discord Vero? È capitato È capitato di giocare A League of Legends Con questi ragazzi Un attimo Giusto Aspetta giusto un attimo Per capire se Daniele c'è Perché si è anche fatto la doccia Quindi magari è anche molto bello Ma sei eroe a posto Avevo chiesto Avevo chiesto No era gli unici quattro Di chi è Quindi aspetta Daniele Mi dai due secondi Che sto preparando una canzone Allora Cosa? Stai preparando una canzone in bagno? Sì E' vero stupido Allora Dai due minuti Dopodiché Oh poi raga Si sente tutto Allora niente Cioè se uno in bagno Tira tipo una mega scoreggione Si sente Allora fai così Allora a questa puntata Perché Sì A questa puntata Vieni forchiamo a salutarla Come va tutto a posto Si sta mangiando una pistacchia Eh Va bene Va bene Arriva subito per favore Sta cucinando Oh cavolo Adesso devo cercare di guadagnare del tempo ragazzi Oh ma Ha acceso il microfono Eh sì Ma se uno Mi chiedevo Mi chiedevo Cioè si sente tutto dal bagno Ma se uno per caso Tira Capito C'è la molla La molla? Eh Si sente? No Allora Sì si sentirebbe Però la mia stanza è insonorizzata E quello che hai sentito È quando ho aperto la porta Vedi che ci sono tutti questi Tutti questi pannelli Sono tutti fatti di lana di roccia Che c***o è la lana di roccia? Allora La lana di roccia Prima di tutto Stai calma No 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 Era uno scherzo Chiaramente sapevo che era semplicemente una parolaccia usata buonariamente La lana di roccia è la roccia trasformata con delle particelle così tanto piccole Che si sollevano nell'aria E sono tossicissime da assimilare Da toccarsi con gli occhi Respirarlo eccetera Ma è sigillato in del tessuto no? E si utilizza per insonorizzare Assurda Sì Gli ambienti Io ho della lana di roccia Un po' da tutte le parti Ho la gomma piombo Ti fa ridere la lana di roccia Bello 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 Sì ma mi sembra una cosa strana Cioè capito? E poi cos'è che hai? Hai detto? Ho la gomma piombo La gomma piombo? Fa un pochino meno ridere da quello che sento Non so è roba strana Però Però serve per insonorizzare Nel senso tu conosci altri materiali per l'insonorizzazione? Non lo so Non ho ancora preso niente per l'insonorizzare Per l'insonorizzazione per ambienti Distruggete la vica nei commenti sotto Sono i miei vicini di casa che mi distruggono Perché fai casino, bordello Una volta ho portato degli horror Devo dire che mi hanno scritto Me l'hanno fatto sapere Che ti hanno detto? Ci sono stati educati con te? Eh mi ha detto solo Cioè non mi ha detto proprio stai zitta Ma il senso era quello Ok ok Quindi hai anche tu un tavernello In che senso? Ah ok Tavernello è il nostro vicino di casa Noi lo chiamiamo così Perché non possiamo dire il suo vero nome Perché mi sente giustamente Eh sì Quindi non possiamo chiamarlo con il suo nome e cognome Pensi di poter vincere in un uno contro uno Contro un gorilla silverback adulto? Silver? Sì silver Oh È arrivato il momento E Ha un po' paura Oddio oddio Dani Ciao Aspetta un attimo che ti faccio sentire Aspetta Oddio Aspetta un attimo Ciao Ludo Il tuo amico Daniele Sdrumox Eccoci Ciao 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 Ti vedo arrossato Dani 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 Anche un po' meno Per favore Siamo in diretta Ok ok Tutto bene? Ciao Che hai mangiato? Dai 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 Sicuramente Gli hanno già chiesto in chat Dile Dile qualcosa di originale Ho scritto la prima strofa Della canzone che voglio dedicarti E volevo chiederti Se ti piace il primo pezzo E fa così Prima giocavi a Brawl Stars Colt Quando ti vedo giocarlo Vengo velocissimo Come Usain Bolt Non cerchiamo Cioè questa è una cosa terribile Perché è un pochino sessualizzante Come canzone E io vorrei invitarti Ma proprio come consiglio Nel dubbio Di essere un pochino più romantico E meno spinto Magari invece di dire Vengo Come Usain Bolt Potresti dire Vengo da te Come Usain Bolt Vengo da te Come Usain Bolt Ti piace di più? Magro Sì Ok Ok allora Non si vede tutto Daniele Ma in questo momento Sta veramente scaricando tensione Sulle ginocchia E Che sono fatto così Ludo Quando ti vedo Sento le poesie Più poesie Senti le poesie Più poesie insieme Sì E poi Saranno Non lo so Quelle tue dita delle mani Saranno I tuoi piedi cicciosi Dai 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 Non lo so È che proprio Non hai seno Capito? Sì Però non hai detto la frase Hai detto soltanto Non hai seno Ok Sì ma non fa Però ti vedo Così tanto emozionato Quindi possiamo dirlo Che Non esiste un criterio specifico Per definire Qualcuno bello Qualcuno è bello E basta E infatti Infatti Ludovica Ha f***ato Tua sorella Che ha cominciato a fare le live Scusate Ha f***ato No 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 Non penso Non penso che voglia far passare Questo messaggio Che c***o Come ti permetti A togliere il sub Dalla mia queen Mezzanotte e un quarto Penso che ci ammazzano Ok Come si chiamava il vicino? Eh sì Sicuramente adesso Mandano messaggio Ehm Scusa Ora chiedo scusa A tutti i vicini No no Soltanto al nostro A Tonino Ho fatto un discorso Dicendo che non dicevamo Il nome del nostro vicino Chiamandolo da Vernello E tu spari Tonino Così Ah Vabbè dai Sbiglialo Eh Ho sbagliato No vabbè Ma può succedere di sbagliare L'importante è che tu non lo faccia Con il nostro indirizzo di casa E E Confermiamo che Tu non hai Antipatie Comunque con tua sorella E sei contenta Che abbia iniziato Un suo percorso Ma io già ci stremavo Quando ero a casa mia Ah Cioè io ho iniziato Con facendo l'azzo con lei Non c'è una competizione No no Tra sorelle Ma non penso proprio Anche perché sono sorelle gemelle Ma è vero che tra gemelle Quando una è triste L'altra lo sente? Il c***o No Però abbiamo avuto Dei periodi dove stavano male Proprio male A livello di Che ne so Febbre Tosse Cose varie Quello sia E ve la influenzavate? Che cucciole Non lo so Per caso Che carina Non ho febbre Anche tra amici Passare la voce E va bene che Non ci possono sfrattare Perché abbiamo già dato Disdetta per la casa E Hai avuto una febbre Ma si è stata tanto male No Tu lo sai Verso Quale gradazione di febbre Si comincia a stare davvero male? Io? Eh tu lo sai? Oh 40 Eh ok 40 No è la risposta sbagliata Tutti i fan Gli esperti della febbre Distruggano la mica sotto Nei commenti Su tiktok Perché a quanto pare Non è una grande esperta E dovrebbe esserlo Ma sentite una cosa Una domanda Ma voi gemelle Mi viene il mestro Lo stesso giorno Visto che siete nate insieme? È una di quelle domande Che mi veniva da fare anche a me Ma che per ritaglio Non facevo Però Comunque no Comunque no Ma scusa Siete nate lo stesso giorno Quindi com'è fatta Ad avere il mestro diverso? Sì ma le mestrazioni Quando cresci Non ti vengono Cioè non partono Sto giorno Ma per me sei sempre piccolissima Anche quando cresci Va bene Taglio io questa cosa Comunque bravissimi Entrambi che normalizziamo Il parlare di mestruazioni Perché ogni volta Che si parla Di sangue vaginale Leggo che schifo Sono inorridito Dalla pressa pochezza Di chi lo scrive Certo Una cosa normalissima E infatti A me viene naturale dire Ludo Se tu sei il mestro Io sarò il tuo assorbente No 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 Cioè è una cosa Che gradisci Oppure lo devo moderare Moderiamolo Ti prego di fare Ti prego di dare Di darti una calmata Per favore Ok Perché sono queste le cose Che distruggono Una carriera intera Tutte le carriere intere Tutte nello stesso momento Nello stesso momento Si crolla proprio il mercato Con la battuta sbagliata E vabbè A me non resta altro Che ringraziare La Vica Cioè la nostra amica Ludovica Per il momento passato Con noi E alla prossima volta Non puoi rimanere qua per sempre No non puoi farlo Non puoi farlo E ti diamo un sacco Un sacco di affetto E ti salutiamo Un saluto a te E a tutti quelli che ti seguono Ciao Grazie Bye Ciao ciao Ha detto che sei bella Ciao ciao Puoi pure uscire dalla chiamata Quando vuoi E crearci un grande senso di abbandono Ma che si deve pur sentire Ok Addio Ciao Ciao Che c'è bro Chissà se un giorno avrò mai il piacere Di assaporare nella mia vita Un frutto così prelibato O nella tua vica se preferisci O nella mia vica Questi Questi frutti che si riescono solo a cogliere Nel giardino dell'Eden Non so se Le mie mani sono pronte a carpire A cogliere A raccogliere tutto questo frutto E a farlo E a farlo mio A fare il succo Di questo frutto Così Sto mangiando un frutto E c'è tutto questo succo Che si Cosparge il mio viso Che tipo di frutto? E' il frutto dell'Eden Un frutto che non carpirò mai E quindi Io non so se Se bevrò il piacere Perché Cioè Mettere dentro No? Le mani Le dita All'interno di questo grosso Cespuglio dell'Eden E sentire magari fare Quando entra dentro Un cespuglio Perché Quando lo do C'è dentro la frutta C'è dentro la frutta Quindi un frutto che cresce Dentro un cespuglio Gravissimo Hai capito? Allora E quando metti Ti sto ascoltando E tutto il succo in faccia E tu questo succo qua Cerchi di prendere E mangiarne tutti Più la sazietà Ok ringraziamo Daniele Che Come avrete scoperto Questo è il 3 su 3 Del momento Della Vica Hai parlato di una canzone Pensi che Stavo scrivendo la canzone Il primo pezzo Te l'ho detto Sì Per quello che le sia piaciuto Sì Io ti consiglio Quella piccola correzione Perché alla fine Non devi Cambiare nulla Ma sei anche Molto più appropriato Per magari Dei fare un pochino Protettivi Nei suoi confronti E penso che La convivenza Con altre persone Del suo ambiente Possa darti Qualche punto in più E E io Ti ringrazio Per Per esserti messo a nudo Così Oppure A ludo Bellissimo Grazie L'ho capita Comunque Ti ha trovato strano La Vica Com'è strano No no Dani Ma strano positivo No 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 Sta scherzando Ovviamente Sta scherzando Ok Pazzesco Però là Vi vedo strumox Flips Ma sei fortunatissimo Sei fortunatissimo Sei fortunatissimo Flips Hai avuto Un sacco di fortuna Buona cena Brother La cena ormai È andata da un sacco di tempo L'abbiamo fatta pure assieme Comunque va bene Ah merda Vero Sì Sereno Brother Buona bevuta Sì vado Vado Esco Ciao ragazzi E' sempre strafico Essere qua E vi dedico Questo piccolo passo Il passo Del saluto Eccolo qua Ciao ragazzi Ciao Ciao a tutti Bellissimo ballo di Daniele Insieme ai fratelli sedia Un momento Immancabile Giochiamo alle navi Giochiamo alle navi dopo Ciao Beddo Salutami tutti quelli che conosco Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti